Ciao ragazzi, un saluto da Pietro Spataro. Allora, oggi finalmente ritornano i pronostici del campionato di Serie A, stagione 2020-2021. Finalmente comincia il campionato, che oggi con due partite, come Fiorentina-Torino e Verona-Roma. Allora, partiamo subito. C'è Fiorentina-Torino e Verona-Roma oggi, sabato. Fiorentina-Torino alle ore 18 e Verona-Roma alle ore 20 e 45. Poi, ci sono solo sette partite, in tal caso, perché le altre tre sono state rinviate. Come Benevento-Inter, Udinese-Spezia e infine Lazio-Atalanta. Il big match che volevo a tutti i costi vederla. Vabbè, peccato. Detto questo, andiamo subito con i pronostici. Allora, Fiorentina-Torino, secondo me la vedo un po' favorita, la Fiorentina, contro il Torino di Giampaolo. Secondo me, vincerà la Fiorentina per ben 2 a 0 o 2 a 1? 1. Se non rischiate, mettete 1x con Under. Under 3,5 o 4,5? Vado di più sul 4,5 che è meglio. Per Verona-Roma. Ecco. Hmm, Verona-Roma, ai ai ai. Ha dato avvia a calciatori importanti come Cumbulla, Ambra Bat. Questo è vero. Si è un po' indebolito il Verona. Mi piace soltanto per gli amici veronesi. E poi la Roma. Zecolo vuole mettere in panchina per essere un nuovo calciatore della Juventus. Eh eh. Mi ricordo che Suarez ha superato l'esame d'italiano e è andato a Perugia. Vabbè, andiamo su questa partita. Verona-Roma, secondo me, segnano entrambe. Gol! Verona-Roma, gol! O vince la Roma o pareggiano, secondo me. Parma-Napoli, di domenica. 12.30, su Dazon, come Verona-Roma. E Geno-Crotone. Si. Parma-Napoli, secondo me, o si sceme. Questo calciatore è interessante, però. Secondo me, vincerà il Napoli. Due fissa. Geno-Crotone. Geno-Crotone, secondo me, un po' il Genoa lo vedo favorito. Sta facendo un mercato stellare. Perché stanno prendendo piazza in prestito della Juventus, è certo. Con me il Genoa può vincere o pareggiare. 1-X. Senz'altro. Sassuolo-Cagliari. Sassuolo-Cagliari, lo vedo un po' in leggero vantaggio il Sassuolo, eh. Anche se è la prima di campionato. Allora, su Sassuolo-Cagliari io ci metto 1. Juventus-Sampdoria. Ecco là la prima di campionato della Juventus di Andrea Pirlo. Lo dirò dopo. Milan-Bologna. Passiamo con Milan-Bologna. Mmm. Ha passato il turno contro gli scappati di casa in Europa League, vincendo per 2-0. Ma secondo me, ancora una volta, il Milan vincerà la partita. Milan-Bologna. 1. Con over 1,5. Juventus-Sampdoria. Mmm. Questa è a favore del pronostico della Juventus. E questo è vero. Non è che ci saranno delle sorprese, no. Juventus-Sampdoria, secondo me, potremmo anche vincerla la partita, anche senza un centroavanti. Chissà. Zeko. No, Zeko sì. O Suarez sì, Suarez no. Se la Juventus dovesse prendere Suarez insieme a Zeko, si sacrifica Paolo Di Pala. Vi spiego il perché. Questo è il quanto. Basta. Anche un attaccante in meno. Allora. Juventus-Sampdoria, secondo me, segnerà. Ronaldo. 1-0. Poi, doppietta di Ronaldo. Se volete, giocate la doppietta di Ronaldo. E poi il gol all'esordio di Kulusevski. Ieri ha fatto la conferenza stampa di presentazione e è stato un po' timido, dai. Vuole dimosciare su tutto campo Kulusevski, l'ho sentito io. Vabbè, le altre partite non le dico perché sono state rinviate. Vabbè, questi sono i miei pronostici per le sette partite di Serie A. Ricapitolando. Fiorentina-Torino, 1x. Verona-Roma, gol. Parma-Nav, 2. Gero-Crotone, 1x. Sassuolo-Cagliari, 1. Milan-Bologna, 1 più over 1,5. Juventus-Sampdoria, 1 più over 2,5. Non le giocate tutte. Giocatevi a piacere vostro. Come vi pare piace. Una cosa. Non vi ho fatto vedere, è un regalo. Siete pronti? Ho un puzzle. Il puzzle della Juventus. Se volete, rispondete... Scrivete questo sotto nei commenti se volete che io costruisco il puzzle per voi. Per farvelo vedere completo. Se no, pazienza. Questo è il quanto, ragazzi. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi invito a che lasciate un mi piace, di commentare qua sotto. Condividete anche il video. Iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non vi siete iscritti. Se siete appena iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno. Seguitemi su Facebook e anche su Instagram. Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video. E domani vedremo la prima partita della Juve di Pirlo. E forza Juve! Ciao, belli!